Quest'estate abbiamo tantissime serate all'Arena BCC, apriamo addirittura il 4 luglio la stagione con l'Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezz'estate, che è l'ultimo spettacolo della compagnia al completo e replicherà anche ad agosto. Ma poi facciamo qui, come direbbe Santinelli, la prima mondiale del nuovo spettacolo che girerà quest'inverno, che è l'ultimo tanga tonga, che saremo io, Santinelli, con Rosa della Cecca e Orietta Pedotti. Siamo noi quattro, gli altri comici sono in video. Tre repliche di questo spettacolo, chiudiamo poi la stagione qui con il penultimo spettacolo che era Somari di battaglia. E poi ci saranno anche tre proiezioni del nostro film, quindi nove incontri, nove appuntamenti all'Arena BCC per tutta l'estate.